Non solo non capitola, ma mette in scena anche manifestazioni popolari a suo sostegno. Il regime libico, da dieci giorni sotto i bombardamenti alleati, esibisce la folla dei suoi fedelissimi. Il messaggio da far passare è che la Libia è col suo capo, come dice una dimostrante. Non abbiamo paura della no-fly zone, proteggeremo col nostro corpo il nostro leader. Dietro alla facciata dura, però, se ne scorge un'altra, più realisticamente orientata ad una soluzione politica. Il colonnello, secondo molta stampa, avrebbe intessuto un dialogo con Londra per negoziare il suo proprio futuro. Ghiddafi teme anche l'emorragia dei suoi dirigenti, che come ha fatto ieri l'ex ministro degli esteri, Cussa, potrebbero provare a salvarsi chiedendo asilo politico in Gran Bretagna.